Oggi è una grandissima giornata per la provincia di Foggia, abbiamo approvato un progetto storico che consentirà a Manfredonia, in particolare a delle zone ad alta vocazione turistica, quale Ciali delle Rondinelle, Ciali degli Zingari, Ippocampo, di poter finalmente avere una rete fognaria ed idrica fondamentali per il rilancio turistico di una zona che al momento era fortemente penalizzata. Questo significa grande appeal anche in termini di riconoscimenti, basti pensare alla bandiera blu che è fortemente condizionata dalla presenza di queste infrastrutture, per cui è un momento importante per questa provincia, parliamo di circa 27 milioni di euro, quindi un investimento di grande portata, di grande valore e siamo molto soddisfatti.